Ciao a tutti stelle web, qui è Xonco Stellar che parla Oggi siamo con un nuovo video di prova Sì, perché non so se lo sentite ma comunque ho un nuovo microfono E quindi volevo provarlo, ditemi come si sente Quindi sì, sarà un video corto, sarò io che provo a fare cose Boh, forse a battere con la finice Per chi interessa il gioco, che magari boh dicono così Appena visti, dicono, oh mio dio è bello, come si chiama, fatemi giocare È Hyper Dimension Neptunia Rebirth 1 L'ho comprato tanto tempo fa, su consiglio di un mio amico, ciao Flash E boh, mi piace però non ho tanto tempo per giocarci e quindi, roba Vediamo un po' come X5 si fa a rare Guardate X5 come si fa a rare Allora Allora, già iniziamo male Perché inizia già a laggare Allora, click, breve Non gli faccio danni, tanto devo cambiare La X qual era? Adesso non ricordo Oddio, l'Apsus, sarà io la O? No, questa è la X, quindi questa è la X, ok Quanto lagga, eh perché probabilmente ho Camtasia aperto Di solito non lagga così tanto Anzi, di solito non lagga per niente Ehm, faccio? Sì, facciamolo Oddio Y, no, aspetta, questo era Y No, questo era Y, no, questo è Y Ok Bello fare i video dove non mi ricordo manco Manco i cosi Io qui ho fatto una cazzata perché adesso si prende tutto il 3 No, ho sbagliato skill E lagga Zero danno Ah Che tot sono sti danni Oddio Oddio, questa è la Renta Ed è morta Allora, iniziamo con le Schirme Quindi Y Adesso non mi ricordo manco cosa cazzo fanno i 2 stili 30% di vita Ok, hai due turni, quindi sì Vai e dallo A Oh Aspetta No Sto sbagliando, sto sbagliando qualcosa Perché lagga? Ecco perché Colpa dell'Agg Sempre colpa dell'Agg, ragazzi Non fidatevi mai dell'Agg Non fidatevi mai dell'Agg Tuo è il Board Break Quindi Ho capito per fattarne per farti Intanto te hai due turni Quindi posso Posso aumentare la potenza d'attacco della mia Neptune Che è tipo OP E te vai dietro di una skill bar che sia anche qua Dov'è Cross combination Oppure faccio critical edge Fa più danni E a me piace fare più danni Ho davvero premuto B Avevo le mani Avevo le mani Ah 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 Andiamo di 4 3 Allora Oh 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 Comunque Congratulazioni X5 Per Comprare i giochi Però poi non sapessi giocare Perché Perché si Forse mi ha lasciato comunque Allora Tengo ancora la Guardia di Drake Quindi posso farti un bello Stavolta te lo faccio Critical edge Quei danni Ah Che bello Quando fai quei danni Che bello Però hai bisogno comunque di cura Quindi Y Vai compa Servi soltanto per Fan service e curare Nient'altro Per dire non sapere Anche te puoi fare uno special skill Quindi vai Y Si No Ho sbagliato Y Oh Sta lagando un casino A casa E vai E' bruttissimo che lagga Perché questo è un gioco molto bello A me gusta Soprattutto la grafica Anche se tipo Il metodo di combattimento Non è tutto sto granché A me piace un casino Il problema è che Se lagga Diventa una merda Critical edge Ma può critare magari questo colpo Oh Forse tutti così che fa sono Cosa sono sti danni all'improvviso Forse perché le ho aumentato la forza Probabilmente è proprio per quello Siccome non voglio rischiare di perdere la mia Neptune Che poi dopo non prende esperienza La puro Oh Però faccio un foreside normale Vai Sì 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 This 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 Non si via nient'altro Ehm Andiamo Pre-kid Pre-kid Ehm X Lo filiamo in bellezza? Finiamolo in bellezza Y E lei si riva Vai È vero? Sì Oh Nuovo livello Nuovo livello C'è un altro? No nessun altro Salvo Eh per questo video vi dico tutto Penso che Sì 8 minuti possono bastare come Come prova del microfono Bene Io Boh Edito sto video Voi Lo carico Voi scrivete nei commenti come si sente Ehm Basta Basta Mentre Mentre edito Poi mi tenerò ancora un po' solo per Dimension Quindi Noi ci vediamo con un prossimo video Ciao Ciao